2.4 Piras, 2.35 Frusione, favorevole, favorevole, 2.23 Basilio, favorevole, favorevole, 2.34 Di Battista, favorevole, favorevole, 2.8 Gianluca Pini, contrario, mi rimetto all'aula, 2.9 Gianluca Pini, favorevole, favorevole, 2.24 Grande, favorevole, favorevole, 2.25 Sibilia, favorevole, favorevole, 2.32 Del Grosso, favorevole, favorevole, 2.33 Basilio, favorevole, favorevole, 2.17 Gianluca Pini, favorevole, Mi rimetto all'aula, 2.21 Artini, favorevole, favorevole, 2.28 Sibilia, favorevole, favorevole, 2.52 Paolo Bernini, Signora Presidente, posso dal 2.52 al 2.30 compresi ci rimettiamo all'aula. Allora, 2.30 pagina, pagina 22, ok, pagina 22, va bene, Presidente, mi approfitto, tutti i favorevoli fino a 2.30, perfetto, siete fantastici, così ripartiamo dal 2.60, meravigliosi, perfetto, adesso passiamo al 2.60 Rizzo, favorevole, favorevole, 2.61 Basilio, favorevole, favorevole, 2.62 Prusone, favorevole, 2.51 Basilio, favorevole, favorevole, 2.63 Basilio, favorevole, favorevole, 2.64 Di Battista, favorevole, favorevole, 2.12 Gianluca Pini, contrario, contrario, 2.15 Gianluca Pini, controllo.